Eccolo 2.8 Olé Eeeh Walking Dead via Questi qua come stanno messi? Questi sono torti L'importante è che non cittano Vediamo se viene qualcun altro Oh Xerxes Fanculo se ne è andato Quien cittano Eccolo Gli Cittano Perchiamo Alla prossima Mission objective, eliminate all enemy units. 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 No, non è obbligarti, è che se sei in un clan è favo clan guarda No, non? Non giocare tra noi Come? Non giocare tra noi in pubblica Che dici, tío? No No, non c'è entra la gente e fai E' che, tío... Error Channel switched Hello 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 Yeah Hello 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 What was it? Grazie.